Michele Pontecorvo Ricciardi, Vice Presidente di Ferrarelle per Affari Italiani. Siamo alla presentazione del bilancio di sostenibilità Ferrarelle che racconta come la sostenibilità per l'azienda si coniughi in diverse forme. Assolutamente, innanzitutto per noi la sostenibilità è un asset strategico. Noi abbiamo puntato sulle iniziative di responsabilità sociale d'impresa da più di dieci anni in maniera molto contraria a tutto il resto del mercato che invece parla una lingua tutta molto simile. La sostenibilità ci ha consentito di essere fortemente differenti e fortemente riconosciuti dal grande pubblico di consumatori dell'acqua minerale italiana e soprattutto di poter restituire valore al nostro territorio di appartenenza, alle nostre comunità di riferimento attraverso delle operazioni che rendono l'acqua un veicolo di sviluppo socio-economico-culturale. Quindi le forme della vitalità che è il titolo di questo bilancio di sostenibilità sono molteplici? Sono molteplici, mi piace pensare che abbiano le forme di tutte le nostre bottiglie ed è la seconda edizione del nostro bilancio di sostenibilità quindi c'è una doppia soddisfazione d'orgoglio e ci vediamo per la terza.